di quello che accadrà, parliamo del Movimento 5 Stelle, quanto peserà questa apertura del Movimento 5 Stelle a Di Maio, di Di Maio sull'elettorato del Movimento, di Di Maio al PD? Non credo molto perché credo che due terzi degli elettori del Movimento 5 Stelle vengono comunque dal Partito Democratico e dal centro-sinistra, quindi non credo che sia un'apertura che posi molto a Di Maio e converrebbe probabilmente al PD dialogare, almeno sui contenuti mi viene da pensare a un tema sul quale sto scrivendo in questo momento uno studio sul reddito di cittadinanza, è un tema della modernità, è un tema anche di una sinistra da XXI secolo ed è un errore lasciare le praterie di consenso che sono collegate a un tema come il reddito di cittadinanza che è una questione importante che interessa anche paesi molto moderni come come la Finlandia o la Svizzera alla Movimento 5 Stelle.